L'auto va a motore a scoppio, di cavalli ce n'ha il doppio. Ula la ma dove sono di vederli non son buono, se son dentro poveretti si stanno molto stretti. Spiritoso e incompetente, del motor lei non sa niente, la sua forza è concentrata e sta dentro la testata e per questo che va forte. Proprio come il suo consorte. Baronetto, se non smette, queste là le statuette di Fandolfo hanno la testa e gliele spacco sulla testa. Pilotastra! Costignone! Progressista! Comadrone! Donna Adele, il tè è servito. Baronetto, l'hai gradita? Chiedovenia, devo uscire e non posso favorire. Non gradisce il panettone? Sì, si è fatto a perfezione. E' un prodotto di Alemagna. Ula la, è una cuccagna. Delizioso, Donna Adele. Meno male Emanuele, che i suoi gusti son squisiti. I signori son serviti. Ha del fuoco per piacere. Prego. Prego. Ma scusi, ma è arte quella lì? Oh, è pittura. Ma come che la chiamano? Distrattismo. No, no. Costrattismo. No, è strattismo. È strattismo. Ma se nel mio reggimento gli avessi un pittore strattista, 15 di semplice, 15 di rigore. Sa che cosa le dico, commendatore? Dica, dica. È un'aberrazione del momento, ma non dura. Giulio Minga. Non può durare come quel gioco delle carte, il là, quel gioco... Quali? Ah, sì, quel gioco col pozzo congelato, come si chiama. No, no, la catasta. No, canasta, colonnello, col can. Ma canasta o catasta vi permetterà che passare delle ore e torna un pozzo congelato? È un'aberrazione. Parole sante, caro colonnello, parole sante. Ma cosa le dico? Dica, dica, dica. Non dura. Non può durare. Giulio Minga. Caminiere, una china martini liscia. E per me, calda. Oggigiorno tutto è una lusinga, giro Minga, giro no. Vive solo chi non se la prende e cantare sempre può. Fino dai tempi dei garibaldini, China Martini, China Martini. Niente bevante, ma nei bicchierini, China Martini. Come hai tempi dei garibaldini.